sicurezza a pesaro il sindaco biancani invoca pene severa e potenziale telecamere omicidio a fano dopo l'arresto di lucaricci si continua a indagare sul movente fattoria della legalità senza finanziamenti per paolini una condotta vergognosa della regione marco a pesaro il progetto voci a tutela dei minori vittime di violenza assistita la leggenda del basket italiano marzorati porta al miralfiore la rassegna ball for run buona serata a tutti voi che state guardando rossini tv e ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è mercoledì 26 giugno apriamo questa edizione parlando del tema della sicurezza tornato prepotentemente nel dibattito politico e pesarese dopo la morte per overdose di un 44 anni avvenuta come ben sapete al parco miralfiore il sindaco andrea biancani è intervenuto oggi ai nostri microfoni facendo il punto sulle criticità ad affrontare e annunciando una serie di linee d'azione previste compreso il potenziamento della videosorveglianza io sono per la sicurezza senza sì e senza ma nel senso che le persone che compiono degli atti illeciti come ad esempio gli spaziatori debbono essere arrestati quindi il messaggio che è stato lanciato è un messaggio ovviamente che era forviante e dal mio punto di vista però ho voluto ribadire che l'ordine pubblico in città la competenza non è del sindaco ma la competenza delle forze dell'ordine tanto che ho chiesto immediatamente al prefetto che devo dire è stata gentilissima perché ha subito accolto questa richiesta e già venerdì mattina faremo il primo incontro sull'ordine e la sicurezza in questi anni abbiamo fatto dei progetti anche comuni dove abbiamo messo a disposizione la polizia locale sono state coinvolte ad esempio anche la guardia di finanza ma in particolar modo diciamo la questura e i carabinieri stanno portando avanti tutta una serie di azioni di contrasto le forze dell'ordine fanno sempre il massimo ma dobbiamo partire dal presupposto che loro sono sicuramente sotto organico e quindi l'invito che io faccio a tutti coloro che in questi giorni si sono stati come paladini della sicurezza che il sindaco il sindaco Biancani è per rispetto delle regole e sicuramente perché affinché il parco ma non solo tutta la città sia in sicurezza le persone che commettono reati devono andare in carcere ovviamente noi abbiamo delle leggi le leggi vanno rispettate ma purtroppo oggi le leggi fanno sì che chi viene preso appunto non fa il carcere quindi ho fatto un appello piuttosto che dire al sindaco che ha dato come dire ha usato parole come dire come per riconoscere o per giustificare le persone che compiono questi reati forse sarebbe meglio che utilizzassero le loro energie o per modificare le leggi o per implementare il personale che oggi è delle forze dell'ordine che oggi è in città con gli slogan la sicurezza il populismo la sicurezza non migliora sono anni che queste forze politiche hanno consenso dei cittadini perché continuano a raccontare che se loro vanno al governo non c'è più uno sbarco in Italia gli sbarchi nel corso dell'ultimo anno sono più che raddoppiati non aumentati di uno sono più che raddoppiati e quindi non accetto sicuramente da chi ha fatto sempre una campagna elettorale rivolta alla sicurezza senza che poi ha dato seguito a tutto quello che ha promesso i cittadini io prometto per quanto mi riguarda ai cittadini di essere un sindaco attento che vuole puntare sulla sicurezza della propria città che farà di tutto per collaborare con tutte le forze dell'ordine sapendo che comunque c'è un tema, un problema legato al fatto che occorre una maggiore integrazione che non vuol dire mettere e dare il lavoro all'ospacciatore ma vuol dire che se noi lasciamo le persone in mano alla criminalità perché non riusciamo a individuare dei percorsi di integrazione di queste persone queste persone in automatico finiscono nelle mani della criminalità quindi ho voluto lanciare un messaggio che il problema è molto più ampio e molto più complesso e dobbiamo farci carico anche di riuscire a capire con le leggi di oggi che non consentono molto spesso di rendere regolari anche persone che sono irregolari ma che magari potrebbero, non mi riferisco in particolar modo ovviamente agli spacciatori ma in generale all'irregolarità dove ci sono tante aziende che hanno bisogno di personale che non possono assumere perché non hanno le giuste autorizzazioni e quindi il tema è molto più complesso i cederini devono sapere che la città di Pesaro è guidata da un sindaco o da un'amministrazione che darà la massima attenzione tanto è che nelle prossime settimane partiranno i lavori è già stato completato il sottopasso lì verranno installate delle telecamere la zona della stazione sarà la telecamere sia vicino alla stazione sia nel sottopasso i due parcheggi attualmente che sono molto utilizzati al di là della stazione saranno completamente riqualificati illuminati e con le giuste telecamere Ed ora cambiamo argomento perché si attende l'esito dell'autopsia sui corpi di Giuseppe Ricci e Luisa Marconi coniugi di 75 e 70 anni uccisi a Fano nella loro abitazione in via Fanella dal figlio Luca di 49 anni che come vi abbiamo raccontato nel Tg di ieri ha confessato il delitto dopo 16 ore di interrogatorio Ricci è ora recluso in carcere a Villa Fastigi le indagini condotte dal procuratore Maria Letizia Fucci stanno cercando di fare ulteriore chiarezza su un movente che pare legato ad un brutale atto di violenza degenerato da questioni prettamente economiche su tutte la situazione debitoria dell'arrestato che avrebbe logorato i rapporti a livello emotivo e familiare Il presidente della provincia Giuseppe Paolini grida allo scandalo dopo la cancellazione dei finanziamenti regionali che rendono molto precarie le attività di un luogo simbolo della lotta alla mafia come la fattoria della legalità di Isola del Piano Vediamo il servizio Giuseppe Paolini, presidente della provincia di Pesaro Urbino nonché sindaco di Isola del Piano grida lo scandalo di fronte allo stallo di indifferenza che circonda la fattoria della legalità Un bene confiscato alla mafia che attende da anni un finanziamento promesso fin dalla giunta regionale di Ceriscioli è tolto dall'agenda delle erogazioni della successiva giunta a Quaroli Dopo richieste di incontri e reiterati tirai molla il consiglio regionale dello scorso martedì è stato per Paolini la goccia che ha fatto traboccare il vaso Io credo che sia abbastanza grave quello che è successo ieri in consiglio regionale e credo che sia scandalosa la risposta che ha dato l'assessore Saltamartini cioè un finanziamento che viene dato dalla giunta di Luca Ceriscioli di 240 mila euro viene immediatamente cassato, cancellato dalla giunta attualmente in carica era un finanziamento di 240 mila euro che a noi serviva per ristrutturare l'immobile un immobile che da dieci anni lavora nella sensibilizzazione con le scuole e con i giovani sulla legalità abbiamo avuto parecchi campi di estate liberi abbiamo avuto dei campi dello SPTGL e avremo un campo anche quest'estate dove proprio questo problema sarà al centro degli incontri che faremo cioè l'indifferenza assoluta di una regione che taglia i finanziamenti mi vengono ripromessi dal presidente Acquaroli ogni anno gli dicevo stai tranquillo presidente li rimettiamo, li rimettiamo sono passati 4 anni e quello che ha detto ieri Saltamartini è semplicemente scandaloso che le associazioni debbono farsi carico di cosa? fanno già volontariato ci mettono ore ci mettono anche denari in proprio di ristrutturare un bene quanto questo bene non è solo era un bene confiscato alla criminalità organizzata assegnata al comune di Israelpiano ma non è solo del comune di Israelpiano questo qua è di tutta la gente che lotta contro la mafia Paolini sostiene anche che sia trapelato dal consiglio regionale che la sua appartenenza politica di centro-sinistra non agevoli questo finanziamento perché la legalità non è né di destra né di sinistra è trasversale però quello che sta dimostrando la regione è l'indifferenza il menefreghismo e questo dovrebbero semplicemente vergognarsi è l'unica regione che ha messo 0 euro di finanziamenti sui beni confiscati 0 euro di finanziamento a differenza di milioni che hanno messo altre regioni io dico solo una cosa essendo da anni uno che lotta contro la mafia che fa parte di associazioni che lottano contro la mafia dico solo vergognatevi dovete semplicemente vergognarvi in modo particolare l'assessore Salta Martini e proprio Isola del Piano è stata e sarà anche questa sera protagonista del documentario che vi abbiamo proposto su Rossini TV questa sera potrete vedere la quarta puntata l'isola che c'è che trasmetteremo alle ore 21.20 ed ora cambiamo territorio ci spostiamo a Gavice Mare dove inizia l'azione amministrativa della nuova sindaca Mari Lagiro-Lomoni che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni ho riconfermato ovviamente nel segno dell'esperienza amministrativa tre persone che avevano già fatto parte della giunta comunale in precedenza che sono Rossana Biagioni, Roberta Fabri e Roberto Reggiani e la grande novità della nostra giunta comunale è Matteo Sanchioni una giovane di 27 anni che però ha una grande competenza e capacità abbiamo il dovere di portare a casa dei grandi progetti di rinnovamento sulla strategia turistica sulla condivisione con gli operatori sul rinnovamento del nostro centro commerciale naturale sulla valorizzazione del territorio e credo ovviamente che questa giunta formata da queste quattro persone ovviamente che saranno guidate da me alla guida anche di assessorati comunque importanti come quelli dei lavori pubblici delle attività economiche della sicurezza dei cittadini dei servizi sociali quindi un grandissimo lavoro che sarà eseguito ed ho chiesto il massimo impegno a tutti i componenti della giunta comunale perché non potremmo lavorare se non H24 facendo dei grandissimi sacrifici unitamente dedicandoci al bene del nostro paese quindi all'amore che ognuno di loro condivide per Gabicemare da Gabicemare passiamo a Tavuglia dove si è insediata invece la giunta comunale del nuovo sindaco Patrizio Federici quattro assessori con due conferme come Mirko Baronciani e Laura Macchini che manterrà anche il ruolo di vice sindaco più due giovani novità promosse dal consiglio comunale sull'onda delle tante preferenze ricevute in sede elettorale varle a dire Lucia Reginelli e Alice Pazzaglini confermato Michele Matteucci come presidente del consiglio comunale Cambiamo di nuovo argomento perché crescono con numeri preoccupanti gli episodi di violenza domestica denunciati al centro antiviolenza di Pesaro e Urbino che da tre anni si è arricchito anche di un servizio specifico a tutela di bambini e adolescenti che subiscono i traumi psicologici del vivere in un ambiente violento e allora vediamo il servizio 98 mamme, 85 bambini, 51 adolescenti, 30 papà questi i numeri delle persone assistite dal servizio voci che la cooperativa Labirinto ha istituito nel 2021 creando un percorso di sostegno ad una fascia minorile che vive situazioni di violenza domestica e conseguenti traumi psicologici così come supporto al recupero del ruolo dei genitori un bisogno che è emerso dalle donne che abbiamo accolto al centro antiviolenza e un bisogno che abbiamo voluto accogliere quindi aprendo questo servizio e aiutando i minori quindi i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze a rielaborare questo vissuto traumatico perché quando parliamo di violenza parliamo sempre di trauma quindi un numero molto alto un numero che ancora forse è un po' sommerso ma che speriamo che col tempo emerga sempre di più un lavoro sociale enorme e crescente che il 28 giugno alle 17.30 avrà una sua specifica cassa di risonanza divulgativa nella sala del Consiglio Comunale alla quale seguirà il giorno seguente l'inaugurazione di una installazione artistica realizzata da Romina Tassinari e collocata presso la biblioteca Controvento di Via Passeri nella fascia 3-6 anni lavoriamo attraverso il corpo quindi abbiamo un laboratorio di psicomotricità nella fascia 3-7 anni abbiamo i laboratori espressivi teatrali abbiamo i percorsi per preadolescenti e adolescenti dei percorsi individuali ma accogliamo anche le mamme quindi facciamo sia supporto alla genitorialità che abbiamo attivato un gruppo delle mamme accogliamo dal 2022 anche i papà in tre incontri per ridare un po' anche quella responsabilità e la consapevolezza che quello che hanno agito ha avuto una conseguenza sul proprio figlio ed è importante rimandare questa responsabilità il servizio voci si è sviluppato a partire dall'emergenza palesatasi dalle quasi 1900 donne che si sono rivolte in 13 anni al centro antiviolenza in un proficuo lavoro di sinergia e dialogo con comune, consultori e soggetti privati su tutti il gruppo bancario intesa San Paolo che da 4 anni sostiene i progetti di labirinto destinando 200.000 euro al solo servizio voci Per noi l'esperienza nasce da quando nel 2011 abbiamo iniziato come cooperativa labirinto a gestire il centro antiviolenza accorgendoci che il 70% delle donne che seguivamo erano madri avevano figli e nel 58% dei casi questi figli erano minori teniamo presente che la violenza assistita giusto per dire di che cosa stiamo parlando quando parliamo del servizio voci è quella forma di maltrattamento a cui vengono sottoposti i bambini i ragazzi e le ragazze nell'assistere una violenza psicologica fisica all'interno delle mura domestiche e il non esserne direttamente coinvolti quindi non una violenza diretta ma una violenza assistita cioè quindi assistere a questa dinamica di violenza è stato dimostrato che crea lo stesso trauma e le stesse problematiche nella vita adulta il coordinamento italiano dei servizi per il maltrattamento e l'abuso all'infanzia ha fatto una ricerca nel 2021 e i dati sono questi i bambini, i minorenni, vittime di abuso e maltrattamento sono stati nel 2021 77.493 il 32% di questi vittime di violenza assistita quindi circa 25.000 minori nel 2021 sono stati vittime di questa violenza assistita quindi è davvero una situazione di cui le istituzioni pubbliche noi cerchiamo di dare come labirinto un contributo importante si devono assolutamente far carico Si chiama Alessandro Lunghi un cittadino pesarese che quotidianamente si arma di scopa e palette e pulisce le strade in cui vive dalle cicche di sigarette buttate a terra un comportamento che oggi l'ha portato ad essere convocato in comune ed essere premiato dal sindaco Andrea Biancani con l'attestato del plauso della città per l'alto senso civico e il forte attaccamento verso l'ambiente per il terzo anno Pesaro torna ad ospitare il Cater Raduno il festival della trasmissione di Radio 2 Caterpillar torna in città da domani al 30 giugno dividendosi fra Piazza del Popolo e Campo di Marte in Baia Flaminia con una 4 giorni di approfondimenti e musica live si comincia domani alle 18 con il concerto dei Selton a Baia Flaminia e con la stand-up comedy di Yoko Yamada alle 21.30 in Piazza del Popolo all'alba di venerdì c'è il concerto all'alba di Cosmo che alle 6 di mattina si esibirà sul palco di Baia Flaminia e continuiamo a parlare di eventi estivi lo facciamo spostandoci questa volta a Montemaggiore al Metauro che assieme a Confcommercio Marche Nord propone per il 29 giugno l'appuntamento ormai tradizionale con Aspasso nel Castello questo evento è veramente molto attrattivo è molto attrattivo e dà lustro e luce a questo borgo meraviglioso borgo di Montemaggiore con questo evento rodato che attira sul territorio centinaia sono migliaia perché anche l'anno scorso era qualcosa poco meno di un migliaio di persone che si sono presentate a questa iniziativa che grazie alla Proloco di Montemaggiore grazie al mio assessorato di Tadei Francesco che segue queste iniziative anche quest'anno in vista di quello che sono una visibilità maggiore del nostro territorio grazie anche a Pesaro 2024 è stata arricchita di ulteriori eventi che poi saranno loro a spiegarvi in maniera più dettagliata si tratta di un percorso enogastronomico che consiste in cinque portate accompagnate da cinque calici di vini delle cantine del nostro territorio è un percorso che si snoda in tutto il nostro borgo queste portate saranno servite in punti più belli più caratteristici del nostro centro storico per tutta la durata della cena ci sarà una filodiffusione con brani scelti da Emilio Rossi DJ mentre dalle 22.30 poi si cambia ritmo grazie al DJ set Weekend Dance a cura di Corrado Cori e Roby Revolution dove tutta la piazza Bramante che è la piazza principale del nostro centro storico si trasformerà in una bellissima discoteca a cielo aperto per la prima volta Spasso nel Castello sarà un evento AIC questo cosa significa? che tutte le persone intolleranti al glutine le persone celiache avranno anche loro modo di avere il loro percorso enogastronomico in quanto i loro piatti saranno cucinati da due ristoranti certificati AIC e sempre il 29 giugno ma al Parco Miralfiore di Pesaro arriva un'iniziativa di basket molto particolare dal titolo Ball for Run a portarla è l'associazione Liba diretta da una leggenda del basket italiano come Pierluigi Marzorati che abbiamo intervistato in questo prossimo servizio Sabato 29 giugno alle 16 arriva al Parco Miralfiore Ball Run Fieri del Basket con Pesaro che è stata scelta come quarta delle nove tappe italiane della coinvolgente iniziativa ludico-sportiva in cui centinaia di ragazzi si cimentano in tre chilometri di percorso da affrontare palleggiando un'iniziativa cestistica promossa dall'associazione Liba acronimo di Legends International Basket Association presieduta da un monumento del basket italiano quale Pierluigi Marzorati Ball Run e finalità di Liba che ci vengono illustrate dallo stesso Marzorati Liba Italia SD è l'associazione che è stata costituita dagli ex giocatori ex giocatrici ex allenatori cioè tutto il mondo che ha dato qualcosa al basket italiano e non solo che vogliono rimettersi in gioco per trasmettere dei valori ai ragazzi non ai valori dello sport ai ragazzi soprattutto sotto l'aspetto di rispetto delle regole delle norme dell'avversario e quant'altro tra queste iniziative dove stiamo programmando dei progetti anche nelle scuole scuole attraverso scuole primarie secondarie primo grado un progetto per i licei sportivi a livello nazionale il primo torneo nazionale e poi abbiamo anche queste iniziative che hanno un diciamo un carattere familiare perché noi questa borra anche consiste in una camminata barra leggera corsa da fare su un percorso di 3050 metri esattamente mille volte all'altezza del canestro che bisogna farla palleggiando è una cosa molto soft che vede coinvolto appunto le famiglie e spesso i genitori vengono a dire ah mio figlio mia figlia gli è piaciuto come fa andare avanti a giocare a basket quindi noi invitiamo anche le due squadre più importanti maschile e femminili delle città dove andiamo quest'anno sono nove tappe dove possono accogliere le esigenze di questi genitori per far proseguire ai ragazzi il basket che ripeto non voglio fare delle frasi fatte lo sport migliore del mondo ma direi che il 21 dicembre dell'anno scorso c'è stato riconosciuto dall'ONU come la giornata mondiale del basket e questo è un un titolo abbastanza importante che vogliamo anche poi utilizzare anno per anno per promuovere il basket riconoscimento mondiale per il basket a fronte di un movimento di pallacanestro italiana che a detta di Marzorati vive un momento colmo di interrogativi diciamo che adesso la nazionale sta andando a questo torneo preolimpico speriamo ci si possa qualificare per l'olimpiadi altrimenti avremmo un altro periodo di due mesi sulla poltrona a vedere le altre discipline sportive diciamo che non va benissimo noi in generale perché abbiamo un crollo delle iscrizioni un calo di interesse sul basket femminile lo dimostra quello che è successo a Bologna qualche giorno fa che Segafredo ha abbandonato il basket femminile una squadra che era il vertice del appunto del movimento femminile nazionale la 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 pallacanestro quindi le società di serie B di A2 sono in grosse difficoltà alcune società sono in porcento di non iscriversi al campionato per problemi finanziari quindi credo che sia una cosa contrariamente a quello che dice il presidente della federazione molto critica molto drammatica e diciamo che sarebbe opportuno riprendere questo cammino e rilanciare il basket perché noi abbiamo un tesoro come l'NBA che è un grande veicolo trainante che potrebbe essere sfruttato molto bene dal quale noi non 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 riusciamo a accogliere niente e nell'ambito degli europei di maxi basket in corso in questi giorni a Pesaro è proprio il presidente della Liba Charlie Caglieris era oggi nella sala del consiglio comunale per consegnare due premi alla carriera a due grandi cestisti del passato il pesarese Franco Bertini noto giornalista del Carlino e l'ex nazionale Sandro Riminucci che nell'occasione ha festeggiato anche i suoi 89 anni continuiamo ancora a parlare di basket in questo caso il basket professionistico con la VL che oggi ha ufficializzato il ritorno a Pesaro di Simone Zanotti con cui la società Bianco-Rossa ha sottoscritto un contratto biennale Zanotti 32 anni lascia dunque Cremona e torna alla Carpegna Prosciutto Pesaro dove aveva giocato per quattro anni fra il 2018 e il 2022 un gradito ritorno e un rinforzo che può rivelarsi importante per affrontare il campionato di serie A2 e come anticipato in questa edizione del nostro telegiornale in cui è stata protagonista anche il comune di Isola del Piano per la fattoria della legalità questa sera trasmetteremo alle 21.20 l'ultimo documentario realizzato a Isola del Piano si chiama L'Isola che c'è tra sogno e realtà l'ultima puntata è un omaggio alle attività che costellano il territorio dagli albori ad oggi rispetto per la terra che circonda Isola del Piano è visibile negli occhi dei titolari delle aziende che abbiamo conosciuto e visitato miele, vino pomodori pasta e legumi tutto prodotto e confezionato con la venerazione di chissà che siamo ancora a essere privilegiati a godere di queste bontà ma che occorre consapevolezza e attenzione per non disperdere il sapere della buona alimentazione ma prima subito dopo questa edizione del nostro telegiornale l'appuntamento con la natura della cultura magazine quindi tra pochissimo intorno alle 20 un nuovo spazio che vi informa sugli eventi di Pesaro 2024 e poi alle 21.40 invece vi mostriamo quella che è la programmazione di tantissimi appuntamenti di teatro concerti cinema dell'arena BCC di Fano quindi restate con noi prendete appunti anzi iniziate ad acquistare i biglietti perché veramente ci sono degli spettacoli bellissimi da godere all'aperto e poi domani vi aspetto con il consueto appuntamento della nostra rassegna stampa insieme leggiamo i giornali locali e chiaramente potete interagire in diretta con noi sulla nostra pagina facebook e allora grazie per essere stati con noi anche questa sera vi auguro buona serata grazie a tutti